Siete in vacanza ma avete necessità di controllare la vostra casa? Rispondere a una mail oppure prenotare la successiva tappa del vostro viaggio? Intel, in collaborazione con Microsoft, ha creato la Tech Lounge, un'isola digitale installata su una spiaggia della riviera romagnola, dove è possibile toccare con mano le ultime tecnologie. Ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Ve ne ho appena parlato in studio ma non potevo perdere l'occasione di farvela vedere dal vivo. Sono infatti qui al Polo Est 3.0 di Bellaria, Igea Marina, per mostrarvi dal vivo la Tech Lounge. Buongiorno, sono Nicola Procaccio, direttore marketing Intel per la regione sud Europa. Sono felice di essere qui sotto il sole della Romagna a presentarvi la Tech Lounge, che è un progetto voluto da Intel insieme a Microsoft con l'obiettivo di portare la tecnologia a portata di tutti. Come vedete alle mie spalle abbiamo già dei ragazzi assolutamente lanciati nell'utilizzo dei dispositivi di ultima generazione che si potranno ammirare all'interno di questa Tech Lounge, che sono sia due in uno, quindi dispositivi che diventano tablet o notebook in funzione di quelle che sono le necessità e il modello di utilizzo, oltre che dispositivi sottili e leggeri capaci di garantirti quella mobilità di cui hai bisogno quando stacchi dal lavoro e sei in vacanza. Forse non vi rendete conto di quanto queste caratteristiche dipendano dal cuore pulsante che batte all'interno di questi dispositivi. Un cuore che è il processore Intel, sono processori Intel Core di ultima generazione. La settima, quella basata su un processo produttivo che li rende piccolissimi e tali quindi da inserirsi all'interno di dispositivi veramente thin light, come dicono gli inglesi, sottili, leggeri, capaci di lavorare in piena autonomia fino a nove ore. Quindi perché non approfittare di questa estate su questa spiaggia meravigliosa, bell'aria e geomarina e dare la possibilità a chi verrà qui a trascorrere le vacanze di continuare a divertirsi grazie a una tecnologia 3.0 targata Microsoft e Intel. Allora, avete visto quanta tecnologia anche in vacanza? Io vi consiglio di fare un salto a geomarina, così anche voi potrete toccare con mano le ultime tecnologie Intel. Anche per oggi è tutto, io vado a prendermi un po' di sole sulla spiaggia mentre mi gusto un bel film in streaming. Voi invece ricordatevi di visitare anche il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!